Salani presenta, per la collana Anche i giovani leggono i classici, Al paradiso delle signore, di Emile Zola, letto da Alberto Malanchino. Capitolo primo Denise se n'era venuta a piedi dalla Gare Saint-Lazare, dove, dopo tutta la notte passata sulle dure panche di un vagone di terza classe, era scesa con i due fratelli dal treno di Sherbourg. Teneva per mano Pepe e Jean la seguiva. Tutti e tre rotti dal viaggio, sbalorditi, spersi in mezzo all'immensa Parigi, con gli occhi alzati verso le case. A ogni cantone domandavano della rue de la Michaudière, dove stava di casa lo zio Badou. Ma, proprio quando stavano per entrare in Place Gaillon, la giovinetta d'improvviso si fermò. «Oh!» disse. «Guarda! Guarda! Jean!» E restarono lì, fermi, stretti insieme. Erano tutti vestiti di nero, perché portavano ancora i vestiti che si erano fatti per il lutto del padre. Lei, troppo gracile per i suoi vent'anni, con un'aria di miseria che si vedeva da lontano, portava un piccolo fagotto. Dall'altra parte le si aggrappava al braccio il fratello minore, che non aveva più di cinque anni, e il maggiore, fiorente nei suoi sedici, stava lì, dritto, dietro le spalle di lei, con le mani penzoloni. «Oh, bello!» riprese dopo un momento. «Questo sì che è un negozio!» C'era, sull'angolo della rue de la Michaudière e della rue Neuve-Saint-Agostin, un negozio di novità, le cui vetrine splendevano chiassosamente in quella dolce e pallida giornata di ottobre. Suonavano le otto a Saint-Roch. Sui marciapiedi, poca gente. E tutta di quella che ha l'obbligo di levarsi presto. Gli impiegati che si avviavano all'ufficio, e le brave massaie che correvano di bottega in bottega. Dinanzi alla porta, due commessi, su di una scala a pioli, finivano di attaccare le flanelle, mentre in una vetrina della rue Neuve-Saint-Agostin, un altro, inginocchiato e volgendo le spalle, faceva con garbo le pieghe a una pezza di seta azzurra. Nel negozio, ancora vuoto di clienti, con l'arrivo dei garzoni si sentiva un brusio simile al risveglio di un alveare. «Perbacco!» disse Jeanne. «Altro che Valogne! Il tuo non gli allaccia neanche le scarpe!» Denise scrollò la testa. Era stata due anni laggiù, da Cornaie, il primo negoziante di novità che ci fosse. E quel magazzino nel quale si imbatteva così a un tratto, quella casa enorme le gonfiava il cuore, la teneva lì, ferma, commossa, curiosa. Dimentica del resto. Nell'angolo che dava sulla Place Gaillon, la porta tutta a cristalli saliva fino al mezzanino, tra un cumulo di ornati carichi di dorature. Due statuette allegoriche, due donne sorridenti col petto nudo e prominente, svolgevano l'insegna al Paradiso delle Signore. E di là partivano le vetrine lungo Rue de la Michaudière e Rue Neuf Saint-Agostin, dove occupavano, oltre la casa che faceva angolo, altre quattro case, due a destra e due a sinistra, comprate e ristrutturate di fresco. Quelle vetrine, con le mostre a pian terreno e i cristalli del mezzanino, dietro i quali si vedeva tutta la vita interna del negozio, le parevano, per effetto di prospettiva, interminabili. Lassù, una ragazza vestita di seta temperava un lapis, mentre, dietro di lei, due altre spiegavano dei mantelli di velluto. «Al Paradiso delle Signore!» lesse Jean col suo sorriso dolce di adolescente, che già aveva avuto un amoretto a Valogne. «Mi garba!» «Qui sì che ce ne deve venire di gente!» Ma Denise restava tutta assorta dinanzi alla mostra della porta di mezzo. Lì, proprio all'aperto, quasi sul marciapiede, c'era un monte di mercanzia a buon prezzo, la tentazione della porta, le occasioni che fermavano le donne nel loro passare. La roba scendeva dall'alto, stoffe e lane, merino e vigogne. Cadevano dal mezzanino, sventolanti come bandiere, e con certe mezze tinte, grigie color lavagna, o azzurro marino, o verde oliva, che erano interrotte dai cartellini bianchi dei prezzi. Accanto, quasi ad inquadrare la soglia, pendevano egualmente pellicce, strisce di guarnizione, la sottile cenere delle spalle di Petit Gris, la neve pura dei ventri di Cigno, il pelo della falsa martora e del falso ermellino. Poi, giù negli scaffali, sulle tavole in mezzo a colonne di scampoli, sovrabbondavano articoli di maglieria che si davano via per niente, guanti e fischiù di lana fatti a maglia, cappelline corpetti, tutto un angolo di capi invernali dei mille colori, intrecciati, rigati, con macchia sprazzi sanguimi. Denise vide della tarlatana a 45 centesimi, strisce di martora d'America a un franco, e dei mezzi guanti a cinque soldi. Era un immenso ammucchiamento da fiera. Pareva che il magazzino scoppiasse e gettasse il superfluo sulla strada. Dello zio Badù se ne erano belle scordati. Pepe stesso, che non lasciava la mano della sorella, spalancava gli occhi. Una carrozza gli obbligò tutti e tre a tirarsi da parte e uscire dalla piazza, e senza pensarci, presero la rue Neuf Saint-Agostin fermandosi ad ogni passo lungo le vetrine. Da principio furono attratti da uno scenario ingegnosissimo. In cima, degli ombrelli disposti obliquamente, sembrava formassero il tetto di una capanna rustica. Sotto, delle calze di seta pendenti da ferri, mostravano il profilo curvo dei polpacci. Alcune punteggiate da mazzolini di rose, altre da tutte le sfumature, le nere traforate, le rosse ricamate ai lati, quelle color carne, così molli da aver la dolcezza della pelle di una bionda. Finalmente nel fondo erano gettati in simmetria dei guanti con le dita allungate, il palmo stretto come quello delle vergini bizantine, e con quella grazia rigida e quasi adolescente che ha la roba delle donne prima che sia portata. Ma l'ultima vetrina gli attirò più delle altre. Una vera esposizione di sete, di rasi, di velluti, esultava con una gradazione molle e vibrante in tutti i toni più delicati dei fiori. In cima, i velluti d'un nero cupo, d'un bianco panna, più giù, i rasi, color rosa, azzurri, dai tratti vivaci, scolorantisi in pallori d'una dolcezza infinita, più giù ancora, le sete, tutta la varietà dell'arcobaleno, pezze rialzate a sbuffi, piegate come attorno ad una vita slanciata, divenute viventi sotto le dita esperte dei commessi. E tra un motivo e l'altro, tra una frase e l'altra dei colori della mostra, correva un accompagnamento discreto, un leggero cordone a sbuffi di foulard color crema. Là, ai due capi, sorgevano su pile altissime le due sete delle quali la casa aveva la proprietà esclusiva, la paradiso e la pelle d'oro. Roba simile non si era mai vista. Doveva mettere sotto sopra tutto il commercio delle novità. «Oh, quella seta lì ha cinque franchi e sessanta!» mormorò Denise. meravigliata nel vedere la paradiso. Jeanne cominciava a seccarsi. Fermò uno che passava. «Mi dice dov'è la rue de la Michaudière?» «La prima a destra!» E allora, tutti e tre tornarono sui loro passi, girando intorno al magazzino. Ma sull'entrare nella via, Denise fu di nuovo attratta da una vetrina, dove erano esposte delle confezioni per signore. Da Cornai a Valogne, era lei che si occupava specialmente delle confezioni, e non aveva mai vista una cosa simile. dall'ammirazione, era come inchiodata sul marciapiede. In fondo, una grande sciarpa di trina di Bruges, d'un prezzo assai alto, s'allargava come un paramento d'altare maggiore con due ali spiegate, d'una bianchezza sfumata di rosa. Delle gali in punto d'Alençon pendevano giù in Ghirlande, e da cima a fondo, quasi un fioccar di neve, trine d'ogni sorta, quelle di Malin, quelle di Valencien, le applicazioni di Bruxelles, i merletti di Venezia. A destra e sinistra, delle stoffe si alzavano in colonne cupe, e facevano sembrare più lontano quello sfondo da tabernacolo. E le confezioni erano là, in quella cappella eretta al culto delle grazie muliebri. Nel mezzo, una meraviglia, un mantello di velluto con guarnizione di volpe, argentata. Da una parte, una cappa di seta, foderata di petigree. Dall'altra, un paltoncino, di panno orlato di penne di gallo. Finalmente, delle mantiglie da teatro in cashmere bianco, in trapunto bianco, guarnito di cigno o di ciniglia. Ce n'era per tutti i capricci. Dai mantelli a 29 franchi, fino a quello di velluto da 1800. Il petto prominente dei manichini di legno gonfiava la stoffa. Le anche rilevate esageravano la sottigliezza della vita. Al posto della testa, c'era un cartellone col prezzo appuntato con uno spillo. Nella felpa rossa del collo e gli specchi dai due lati della vetrina, con un effetto voluto, li riflettevano e li moltiplicavano senza fine, popolando la via di quelle belle donne in vendita che avevano a grossi numeri il loro prezzo al posto del capo. Che lavori! Mormorò Jeanne, che non trovò altre parole per esprimere la sua commozione. Anche lui era rimasto fermo, a bocca aperta. Tutto quel lusso femminile lo faceva arrossire di piacere. Aveva la bellezza di una fanciulla, una bellezza che pareva avesse rubata alla sorella, la pelle che sprizzava salute, i capelli rossi e ben pettinati, le labbra e gli occhi molli di dolcezza. Accanto a lui, nel suo stupore, Denis pareva ancora più gracile, con quel suo viso lungo con la bocca troppo grande e la carnagione già non più fresca sotto i capelli di un biondo troppo chiaro. E Pepe, biondo anche egli, del biondo dell'infanzia, si stringeva sempre più a lei, come assalito da un bisogno inquieto di carezze, turbato e fuori di sé per colpa delle belle signore delle vetrine. Erano tanto curiosi e graziosi, lì sul marciapiede, quei tre biondini vestiti poveramente di nero, quella giovinetta triste tra quel biondino così gentile e quel ragazzo così florido, che i passanti si voltavano a guardarli sorridendo. Da qualche minuto, un pezzo d'uomo coi capelli bianchi e col faccione giallo e pieno, dritto sulla soglia di una bottega dall'altra parte della strada, li guardava. Stava là, con gli occhi rossi di sangue, la bocca contratta, furibondo per le vetrine del paradiso delle signore, quando la vista della ragazza e dei suoi fratelli lo fecero stizzire ancora di più, che facevano quei tre grulli là a bocca aperta dinanzi a quelle ciarlatanerie. «E lo zio?» disse ad un tratto Denise come svegliata all'improvviso. «I rumici odierci siamo», rispose Jeanne. «Deve stare qui». Alzarono la testa, si voltarono e proprio dinanzi a loro, sopra quell'omone, videro un'insegna verde le cui lettere gialle si erano scolorate per la pioggia. Il vecchio e il boeuf, stoffe e flanelle, Badù, successore di Uscorn. La casa, intonacata con un vecchio stucco ingiallito, bassa e volgare in mezzo ai grandi casamenti alla Luigi XIV, che l'erano accanto, aveva tre sole finestre di facciata e queste finestre, quadrate, senza persiane, non avevano che una ringhierina di ferro, due sbarri in croce. Ma in quella nudità, ciò che fece effetto su Denise, che aveva ancora negli occhi lo splendore delle vetrine del Paradiso delle Signore, fu la bottega del pian terreno, soffocata dal palco, con sopra un mezzanino bassissimo, con certe finestrine da prigione a mezzaluna. In un'inquadratura di legno del color dell'insegna, cui il tempo aveva date sfumature di giallo e di bitume, si aprivano a destra e a sinistra due vetrine profonde, nere, polverose, dove si discernevano vagamente delle pezze di stoffa messe a casaccio. La porta spalancata pareva ad esse sulle tenebre umide di una cantina. «Sta lì», riprese Jeanne. «E allora bisogna entrare», disse Denise. «Via, andiamo, papè». Ma tutti e tre erano commossi, presi da timidezza. Quando era morto il papà, ucciso dalla stessa febbre che aveva tolta a loro la mamma un mese prima, lo zio Badou, nella commozione di quel doppio lutto, aveva scritto alla nipote che per lei ci sarebbe stato sempre un posto nel suo negozio quando ella avesse voluto tentare la sorte a Parigi. Ma la lettera era già vecchia quasi di un anno e la giovinetta ora si pentiva di essere venuta via da Valogna, da un giorno all'altro, senza aver avvertito lo zio. Questi non li conosceva nemmeno, perché da quando era partito giovanissimo per entrare come ragazzo di bottega nel negozio di Oshkorn, di cui aveva poi sposata la figlia, non era più tornato laggiù. «C'è Monsieur Badou?» domandò Denise, risolvendosi finalmente a parlare a quell'omone che continuava a guardarli, non riuscendo a capire quel che volessero. «Sono io», rispose. Denise diventò rossa-rossa e balbettò. «Ah, tanto meglio. Sono Denise e questo è Jeanne e questo è Pepe». «Eccoci, zio. Siamo venuti». Badou parve colpito da grande stupore. Cominciò a stralunare gli occhioni rossi nella faccia gialla. Le parole gli uscivano lente e confuse, tanto era lontano col pensiero da quella famiglia che gli cascava sulle spalle. «Ah, siete qui? Siete qui? o come mai siete qui? o se eri a Valogne, come mai non siete a Valogne?» Con la sua voce dolce e un po' tremante, ella gli dovette spiegare la cosa. Dopo la morte del padre che aveva consumato tutto nella tintoria, lei era rimasta la mamma dei due bambini. Quanto guadagnava dal cornaie, non le bastava nemmeno a dar da mangiare a tutti e tre. Jeanne, è vero, lavorava da un ebanista, un restauratore di mobili antichi, ma non prendeva un soldo. Lavorando, aveva preso gusto a quelle anticalie e intagliava figurine in legno. Un giorno, anzi, che aveva trovato un pezzetto d'avorio, si era divertito a fare una testa e un signore passando l'aveva vista. Ed era proprio quel signore che gli aveva fatti decidere ad andarsene da Valogne, avendo trovato a Parigi un posto per Jeanne da un tornitore di avori. Capite, zio, Jeanne entrerà domattina subito a fare il tirocinio dal suo nuovo padrone. Non mi chiedono nulla, gli daranno da mangiare e da dormire. Così ho pensato che Pepe e io ce la caveremo sempre a ogni modo. Più disgraziati che a Valogne, tanto non si può essere. Ma si guardò bene dal dire della birichinata amorosa di Jeanne, delle lettere scritte a una signorina nobile della città, dei baci scambiati di sopra un muro, un vero e proprio scandalo che l'aveva spinta ad andarsene. In fondo, accompagnava il fratello a Parigi per vegliare su di lui, presa da terrori materni per quel fanciullone così bello e così allegro che tutte le donne adoravano. Lo zio Badù non riusciva a raccapezzarsi. Ricominciava a interrogare. Con tutto ciò, quando l'ebbe sentita parlare a quel modo dei suoi fratelli, cominciò a darle del tu. Ma il papà non vi ha lasciato nulla. Io credevo che qualche soldo l'avesse ancora. Ah, quante volte gli ho scritto di non pigliare quella tintoria. Buon cuore, ma giudizio, niente. E tu sei restata con quei due marmocchi sulle braccia e dovuto dar da mangiare a tutta questa gente? La sua faccia biliosa si era rasserenata. Non aveva più quegli occhi pieni di sangue di quando guardava il paradiso delle signore. A un tratto si accorse che stando lì sbarrava la porta. Via, disse. Entrate, dato che siete venuti, entrate. Sarà meglio che star qui a far discorsi senza senso. E dopo aver rivolta alle vetrine di fronte un'ultima smorfia di rabbia, fece passare i ragazzi ed entrò per primo nella bottega chiamando la moglie e la figlia. Elisabeth, Genevieve, via, presto, c'è gente che vi vuole. Ma Denise e i ragazzi esitarono un po' davanti al buio della bottega. Accecati dalla luce piena della strada, battevano le palpebre come sulla soglia di un sotterraneo, tastando il suolo con i piedi per la paura istintiva di qualche scalino traditore e, stretti ancor più da quel vago timore, stringendosi gli uni con gli altri, il bambino attaccato sempre alle gonnelle della giovinetta e quell'altro dietro, entrarono con una grazia sorridente e inquieta. Il chiaro della mattina faceva risaltare il nero profilo del loro vestito a lutto e una luce obliqua adorava i loro capelli biondi. Entrate, entrate, ripeteva Badou. Con poche parole mise al corrente la moglie e la figlia. La prima era una donnina consunta dall'anemia, tutta bianca, bianchi i capelli, bianchi gli occhi, bianche le labbra. Genevieve, anche più debole della madre, aveva la gracilità e il pallore di una pianta cresciuta all'ombra. Ma i capelli neri, magnifici, folti e lunghi, nati come per miracolo da quelle carni senza sangue, le davano una grazia nella sua tristezza, tutt'altro che spiacevole. Entrate, dissero a loro volta le donne. Benvenuti! E fecero sedere Denise dietro a un banco. Pepe salì subito sulle ginocchia della sorella. Jeanne, appoggiato uno scaffale, le stava accanto. Andavano un po' rimettendosi dal primo sbalordimento. Guardavano la bottega e gli occhi si avvezzavano al buio. Vedevano ora com'era fatta. Il soffitto basso affumicato, gli scrittoi di quercia lucidi per il lungo uso, gli scaffali e casellari decrepiti e pieni di ferramenti, mucchi di merci che salivano cupi fino ai travicelli. L'odore delle stoffe e delle tinture, un odore acuto di roba da chimici, pareva anche più forte per l'umidità dell'impiantito. In fondo, due commessi ed una ragazza mettevano in ordine della flanella bianca. «Questo signorino vuol pigliare qualcosa?» disse Madame Badou sorridendo a Pepe. «No, grazie», rispose Denise. «Se hai bevuto una tazza di latte in un caffè di fronte alla stazione e vedendo che Genevieve guardava il fagottino che lei aveva messo in terra, aggiunse la valigetta l'ho lasciata là. Arrossiva. Capiva che non si piomba a quel modo in casa d'altri. Già nel vagone, fin da quando il treno era partito da Valogne, le erano cominciati i pentimenti e la paura e per questo aveva lasciato la valigia e fatto far colazione ai ragazzi. «Guardiamo», disse ad un tratto Badou. «Discorriamo un po' e discorriamo bene. Io ti scrissi, è vero, ma hai già passato un anno e vedi, figlia mia, da un anno in qua gli affari non sono andati per niente bene». Si fermò, soffocato dalla commozione che non voleva mostrare. Madame Badou e Genevieve, con aria rassegnata, avevano abbassato gli occhi. «Oh», seguitò, «è una crisi che passerà, di questo ne sono sicuro, ma vedi, ho dovuto mandar via della gente. Non sono più che in tre e con questi chiari di luna. Insomma, povera figliola, io non ti posso mica aiutare come t'avevo detto». Denise ascoltava, sbigottita, pallida pallida. Egli insistè, aggiungendo, «Non ci si guadagnerebbe, né io, né te». «Va bene, zio», disse lei alla fine, penosamente. «Cercherò di cavarmela da sola». I Badù non erano cattivi, ma si lamentavano di non aver avuto mai fortuna. Quando il commercio andava bene, avevano dovuto tirar su cinque ragazzi, tre erano morti a vent'anni. Il quarto era riuscito tutt'altro da quel che volevano. Il quinto era partito proprio allora per il Messico, come capitano. Non restava loro che Genevieve. Ma tutta quella famiglia era costata cara e Badù aveva finito di rovinarsi comprando a Rambouillet il paese del suocero, un gran baraccone di casamento e per questo in quella sua lealtà maniaca di vecchio negoziante provava di giorno in giorno un maggior acre scontento. «Ma Dio benedetto! Prima di muoversi si manda a dire qualcosa!» riprese arrabbiandosi a poco a poco con la sua durezza. «Mi potevi scrivere t'avrei il risposto di restare doveri! Quando seppi della morte di tuo padre per bacco ti dissi quel che si dice sempre ma tu ci arrivi senza dir nulla! È un bel affare!» Alzava la voce e si sfogava. La moglie e la figlia stavano lì ferme con gli sguardi fissi a terra da gente sottomessa che non ose intromettersi. Jeanne diventava verde. Denise aveva stretto al petto Pepe spaventato e due grosse lacrime le gocciolarono dagli occhi. «Va bene, zio!» rispose lei «Ce ne andiamo subito!» Ci fu un istante di silenzio. Poi Badou ripigliò con tono burbero «Non vi caccio mica via! Dato che siete venuti per stasera diamine! Resterete a dormire qui! Dopo si vedrà!» Allora Madame Badou e Genevieve capirono da un'occhiata che potevano accomodar tutto. Fu presto fatto. Jeanne entrava il giorno dopo a bottega e questa era una faccenda bella e sbrigata. Pepe poteva stare benissimo da Madame Gras una vecchia che per 40 franchi al mese teneva a retta i bambini di meno di 10 anni. Denise disse che poteva pagare il primo mese. Non rimaneva dunque che trovare un posto per lei stessa. Un posto in tutto il quartiere lo avrebbe trovato. «Oh, Vincard non cercava una che sapesse stare al banco?» disse Genevieve. «Ma sì, è vero!» esclamò Badou. «Ci andremo dopo colazione. Il ferro bisogna batterlo quando è caldo!» Non venne nemmeno un avventore a interrompere quei discorsi. La bottega restava nera e vuota. Nel fondo i due commessi e la ragazza continuavano a lavorare con un mormorio e un sussurrare di parole. Alla fine comparvero tre signore. Denise rimase sola per un momento e col cuore angustiato dal pensiero della vicina separazione si affrettò a baciare Pepe che, vezzoso come un gattino, nascondeva la testa e non diceva una parola. Quando Madame Badou e Geneviève tornarono, lo trovarono buono buono e Denise disse che non si sentiva mai. Stava zitto delle giornate intere vivendo di carezze. Fino all'ora di colazione non fecero che parlare di bambini, delle faccende di casa, della vita a Parigi e in provincia, con frasi corte e vaghe come parenti un po' impacciate dal non conoscersi bene. Jeanne era andato sulla porta della bottega e stava lì fermo, tutto attento alla gente che passava e sorridendo alle belle ragazze. Alle dieci comparve una serva. Di solito la tavola era apparecchiata per Badou, Geneviève e il primo commesso. Alle undici c'era la seconda tavolata per la signora, l'altro commesso e la ragazza. A tavola! Esclamò il negoziante volgendosi alla nipote. E quando furono a sedere nel salottino da pranzo dietro la bottega chiamò il primo commesso che si faceva aspettare. Colomban! Il giovane si scusò dicendo che aveva voluto finire di mettere in ordine le flanelle. Era un pezzo di giovinotto di venticinque anni grosso e colorito. Aveva una faccia onesta, una grande bocca da buon diavolo e degli occhi da furbo. Eh, santo Dio, c'è tempo per ogni cosa! riprese Badou che adagiatosi comodamente tagliava un pezzo di lesso freddo con la prudenza e la bravura propria del padrone pesando le fettine con un'occhiata senza sbagliare d'un grammo. Servì tutti. Tagliò perfino il pane. Denise si era messa accanto Pepe perché mangiasse composto a modo. Ma quel salottino buio le dava inquietudine. Lo guardava e si sentiva stringere il cuore abituata come era agli stanzoni nudi pieni d'aria e di luce della sua provincia. Non c'era che una finestra sopra un cortile interno che dava sulla strada per un andito buio e quel cortile umido e fetido era come il fondo di un pozzo dove cadesse un cerchio di palli da luce. D'inverno bisognava che nel salottino da pranzo tenessero acceso il gas dalla mattina alla sera. Quando il tempo permetteva di non accenderlo era anche più triste. Ci volle un po' di tempo perché gli occhi di Denise si abituassero a distinguere abbastanza i bocconi nel piatto. Questo davvero non soffre di disappetenza disse Badou quando vide che Jeanne aveva finita la carne. Se lavora quanto mangia diventerà un ma tu figlia mia non mangi e dimmi un po' ora che si può parlare perché non hai preso marito? Denise posò il bicchiere che stava portando alle labbra. Oh zio sposarmi e allora i ragazzi finì col dare in una risata tanto quell'idea le pareva curiosa e poi chi avrebbe mai voluto saperne di lei così senza un soldo piccina come un uccellino e per di più brutta com'era no no non voleva prendere marito ne aveva abbastanza con due bambini sbaglio sbaglio ripeteva lo zio una donna ha sempre bisogno di un uomo se tu avessi incontrato un bravo ragazzo non ti troveresti sul selciato di Parigi tu e i tuoi fratelli come tanti zingari si interruppe per fare un'altra volta le parti con una parsimonia piena di giustizia d'un vassoio di patate cotte con lardo che la serva portava poi additando col cucchiaio Genevieve Colombin vedi ripresa dire quei due lì se la stagione d'inverno andrà bene saranno marito e moglie a primavera era quella la consuetudine patriarcale della casa il fondatore del negozio Aristide Finet aveva dato sua figlia Desiree al primo commesso Oshkorn e lui Badou venuto in rue de la Michaudière con sette franchi in tasca aveva sposato la figlia dello Oshkorn Elisabeth e ora appena gli affari fossero andati un po' meglio voleva dare la figlia il negozio a Colombin se ritardava così un matrimonio fissato da tre anni era per uno scrupolo per una cocciutaggine di probità gli avevano data la casa in florido stato non voleva lasciarla al genero con meno avventori e con gli affari imbrogliati Badou seguitò presentò a Colombin che era nato a Rambouillet come il suocero anzi erano cugini alla lontana disse che era un gran lavoratore che da dieci anni andava su e giù per la bottega e che la fortuna se l'era meritata e poi non era mica il primo venuto aveva per padre un veterinario famoso in tutta la provincia un vero artista nel suo genere ma tanto ingordo che finiva col mangiarsi tutto grazie a dio disse il negoziante a mo' di conclusione se il padre beve e corre la cavallina il figlio almeno ha imparato qui quello che costano i quattrini mentre egli parlava Denis guardava Colombin e Genevieve stavano accanto ma tranquilli tranquilli senza mai arrossire senza mai sorridere fin dal giorno che era entrato nel negozio il giovanotto aveva fatto affidamento su quel matrimonio era salito su su da ragazzino di bottega impiegato stabile ed ammesso finalmente alle confidenze e ai piaceri della famiglia sempre con una gran pazienza regolato come un orologio pensando che Genevieve era un partito ottimo e onesto la certezza di ottenerla gli impediva di desiderarla e la ragazza si era abituata anche lei a volergli bene ma con la gravità della sua indole tutta chiusa e con una passione profonda che nella calma piatta e metodica della sua vita ella stessa ignorava bella cosa credette di dover dire Denise sorridendo per fare un complimento bella cosa piacersi e potersi sposare già allora le cose vanno per il loro verso rispose Colomban che non aveva ancora fiatato e masticava ad agio ad agio Genevieve dopo avergli gettato una lunga occhiata disse a sua volta tutto sta nell'intendersi poi le cose vanno da sé il loro amore era nato e cresciuto in quel pian terreno della vecchia Parigi era come un fior di cantina da dieci anni ella non conosceva che lui viveva le giornate intera accanto a lui dietro gli stessi mucchi di stoffe in fondo al buio della bottega e la mattina e la sera si trovavano accanto nel salottino da pranzo fresco come un pozzo in mezzo alla campagna sotto il fogliame non sarebbero stati più nascosti e più soli soltanto un sospetto un timore di gelosia doveva far scoprire alla fanciulla che ella si era data intera per sempre in mezzo a quell'ombra complice per il vuoto del cuore e la noia della testa denise pertanto aveva creduto di scorgere un principio di inquietudine nell'occhiata che genevieve aveva gettato a colombon e si affrettò a rispondere garbatamente oh quando due si vogliono bene si intendono sempre intanto badù sorvegliava la tavola con autorità aveva già fatto le parti di certe fettine di formaggio e per festeggiare i parenti chiese dell'altra roba un vasetto di conserva di ribes magnificenza che parve stupire colombon pepe che fino allora era stato buonissimo si fece scorgere quando vide la conserva jean con gli orecchi tesi finché avevano parlato del matrimonio guardava ora la cugina che gli pareva troppo gracile troppo pallida e che dentro di sé gli veniva ricordando un coniglio bianco con le orecchie nere e gli occhi rossi ora su disse finalmente badù si è chiacchierato abbastanza noi posto agli altri e dette il segno di alzarsi da tavola se c'è qualcosa di più non vuol mica dire che si possa abusare di tutto la signora quell'altro commesso e la ragazza vennero a mettersi a tavola Denise restò di nuovo sola a sedere accanto alla porta aspettando che lo zio la potesse portare da Vensart pepe giocava i suoi piedi e Jeanne era tornato sulla porta a guardare la gente per un'ora e la prese parte a ciò che le avveniva intorno di tanto in tanto entrava qualcuno una signora poi due altre la bottega aveva sempre quell'odore di roba vecchia e quella mezza luce dove pareva che tutto l'antico commercio tanto semplice e alla buona piangesse per l'abbandono ma dall'altra parte della via il paradiso delle signore le destava assai più curiosità perché attraverso la porta aperta della bottega ne vedeva le vetrine il cielo era sempre coperto per quanto la stagione fosse avanzata l'aria addolcita dalla pioggia non rigida e in quella luce bianca in cui il sole si diffondeva in pulviscolo il grande magazzino viveva nella foga dello smercio allora Denise parve di trovarsi davanti a una macchina ad alta pressione che desse impulsi perfino alle vetrine non erano più fredde come di mattina sembravano ora scaldate e vibranti per l'interna animazione c'era gente a guardarle delle donne stavano lì ferme contro i cristalli una folla intera fatta brutale dalla bramosia e le stoffe in quella passione che muoveva dal marciapiede vivevano le trine avevano fremiti e ricadevano nascondendo la profondità del magazzino con un'area di mistero che turbava le pezze stesse delle stoffe fitte e quadrate respiravano con alito tentatore gli abiti si drizzavano anche più eleganti nelle loro curve su manichini che divenivano animati specialmente il gran mantello di velluto morbido e tiepido come se avvolgesse spalle di carne con sussulti del petto e fremiti delle anche ma il calore da opificio in cui la casa ardeva veniva soprattutto dalla vendita dalla ressa nelle sale che si sentiva dietro i muri si sentiva il rumore continuo della macchina che cacciava dentro gli avventori li ammucchiava dinanzi agli scaffali li soffocava sotto le merci poi li gettava la cassa e ciò regolarmente con un ordine rigoroso quasi meccanico un popolo intero di donne passava attraverso la forza logicamente sicura delle ruote dentate Denise fin dalla mattina si sentiva morire dalla voglia quel magazzino tanto grande per lei nel quale ella vedeva in un'ora entrare più gente che da cornei in sei mesi la stordiva e l'attirava e nel suo desiderio di entrarvi c'era anche un po' di paura maldistinta ma che la seduceva anche di più nel tempo stesso la bottega dello zio le dava un senso di malessere sentiva uno sdegno quasi istintivo una ripugnanza naturale per quel gelido sotterraneo del vecchio commercio tutto questo tumulto di pensieri l'accoglienza un po' aspra dei parenti la colazione fatta tristemente in un buio da prigione quell'aspettare in mezzo alla solitudine sonnacchiosa di quella vecchia casa agonizzante si compendiavano in una cupa prostrazione in un desiderio intenso di vita e di luce né per quanto fosse buona di cuore le riusciva di staccare gli occhi dal paradiso delle signore come se avvezza a stare al banco avesse ora bisogno di riscaldarsi in quell'ardore di negozi in quello scambio continuo di danari e di merci quelli sì che hanno clienti le scappò detto ma vedendosi Baudou accanto le rincrebbe di aver lasciato sfuggire quelle parole la signora che aveva finito da un bel pezzo di far colazione stava lì dritta bianca bianca con gli occhi bianchi fissi sul mostro e pur rassegnata non poteva vederselo dall'altra parte della strada senza che una muta disperazione le facesse venire le lacrime agli occhi Genevieve intanto sorvegliava con inquietudine sempre maggiore Colombin che non sapendo d'essere spiato stava in estasi con gli occhi fissi verso le ragazze che si intravedevano intente alla vendita dietro i cristalli del mezzanino Badu pieno di bile si contentò di dire non è tutto oro quel che luccica pazienza e strinse le labbra per paura di dirne delle grosse la famiglia si vedeva chiaramente ingogliava quell'ondata di rancori che le era salita alla gola un pensiero nato dall'amor proprio impediva che si mostrassero quali erano a quei ragazzi arrivati proprio allora finalmente il negoziante fece uno sforzo e si rivoltò per togliersi dalla vista della vendita di faccia bene via ripresa a dire andiamo da Vensart i posti sono braccati domani forse non saremmo più a tempo ma prima d'uscire comandò al secondo commesso di andare alla stazione a prendere la valigetta di Denise da parte sua madame Badu quella giovinetta affidava a Pepe decise di approfittare di quel momento per portare il bambino da madame nel vicolo d'esorti per discorrere un po' e fissare tutto Jean promise alla sorella che non si sarebbe mosso dalla bottega è un affare di due minuti presa dire Badu alla nipote mentre facevano rugaillon Vensart ha certe sete che li vanno ancora bene oh anche a lui gli ci vuole giudizio ma è un volpone che a forza di avarizia riesce a mettere d'accordo il pranzo con la cena credo che peraltro che voglia far festa per via dei suoi reumatismi il negozio era in rue Neuf des Petitschamps vicino alla galleria Choiseul era in stile moderno pulito e allegro ma troppo piccolo e povero di mercanzie Badu e Denise trovarono Vensart che discuteva calorosamente con due signori non vi scomodate disse forte Badu non abbiamo fretta si aspetterà e tornando per discrezione verso la porta aggiunse in un orecchio alla ragazza quello magro sta al paradiso secondo commesso per la seta quello grasso è un fabbricante di Lione Denise capì che Vensart cercava di appioppare il suo negozio a Robineux il commesso del paradiso a viso aperto con un'aria a tutta lealtà dava la sua parola d'onore si vedeva che i giuramenti gli costavano poco a sentirlo il suo negozio era un affare d'oro e grosso e grasso come era un fior di salute ogni poco si interrompeva per piagnucolare per lamentarsi di quei maledetti dolori che l'obbligavano a lasciare andare la fortuna mentre l'aveva per i capelli ma Robineux nervoso e irrequieto lo interrompeva se ne intendeva lui del pericolo che le novità correvano e parlava ad una qualità particolare di seta già buttata giù dall'avvicinanza del paradiso Bensart allora tutto acceso alzò la voce perbacco ma il fallimento di quel citrullo del Vabre doveva avvenire per forza sfido la moglie le mangiava tutto e poi qui siamo lontani un mezzo miglio mentre il Vabre era lì porta a porta si mise allora di mezzo Gaugin il fabbricante di sete e ricominciarono a discorrere a bassa voce questi dava la colpa ai grandi magazzini della rovina delle fabbriche francesi facevano loro le leggi spadroneggiavano sul mercato e lasciava capire che la sola maniera di combatterli era di favorire il commercio minuto e soprattutto le specialità l'avvenire era delle specialità per questo apriva larghissimi crediti a Robineux il paradiso si è comportato molto male con voi badava a ripetere non hanno tenuto nessun conto dei servizi resi delle belle trovate per chiamare la gente il posto di primo commesso toccava a voi e ve lo avrebbero dovuto dare da un pezzo e brutemont arriva di fuori e di colpo vi fa una finestra dal tetto di questa ingiustizia Robineux non si sapeva dar pace ma esitava a metter su negozio perché diceva i danari non erano suoi sua moglie aveva ereditato 60.000 franchi e lui si mostrava pieno di scrupoli per questa somma piuttosto diceva si sarebbe tagliate tutte e due le mani che arrischiarle in affari poco sicuri no abbiate pazienza ma ancora concluse finalmente lasciatemi il tempo di ripensarci su e poi ne riparleremo padrone disse pensarte nascondendo il suo dispetto sotto un'aria bonacciona a vendere non ho mica nessun interesse io e se non fossero i miei dolori e tornando in mezzo al magazzino domandò in che cosa vi posso servire monsieur Badou il negoziante che con un orecchio era stato attento presentò Denise raccontò di lei quel che gli parve e disse che aveva lavorato due anni in provincia e siccome voi cercate una ragazza che sappia stare al banco se è vero quel che m'han detto Vessar finse una gran disperazione guarda che sfortuna è vero per otto giorni di seguito ho cercato una ragazza ma sono due ore che l'ho fissata ci fu un momento di silenzio Denise pareva costernata allora Robin che la guardava con curiosità certo commosso dal suo povero aspetto si permise di dare un consiglio so che da noi hanno bisogno di qualcuna nel reparto delle confezioni Badù non poté trattenere un grido che gli veniva dal cuore da voi questo poi no tacque di colpo un po' imbarazzato Denise si era fatta rossa rossa entrare in quel gran magazzino il solo pensarci la invogliava ma perché rispose Robinò meravigliato sarebbe anzi una fortuna per la signorina le consiglio di presentarsi domattina presto a Madame Aurelie che è la direttrice in fondo che ci rimette il peggio che le possa accadere è di sentirsi dire di no il negoziante per nascondere la stizza che lo corrodeva si mise a far discorsi senza costrutto conosceva Madame Aurelie o perlomeno suo marito l'homme cassiere un pezzo d'uomo che aveva perso un braccio sotto le ruote di un omnibus poi rivolgendosi di improvviso a Denise del resto è padrona lei padrona di far quel che le pare e piace e se ne andò dopo aver salutato Gaujean e Robinò Vensar l'accompagnò fino all'uscio ripetendo quanto mi dispiace quanto mi dispiace la ragazza era rimasta in mezzo al negozio un po' impaurita un po' smagnosa di aver dal commesso notizie più compiute ma non osò domandarle e salutò anche lei dicendo soltanto grazie sul marciapiede Badou non disse una parola alla nipote camminava lesto lesto costringendola a fare altrettanto come immerso nei suoi pensieri il rue de la michaudière stava per entrare in casa quando un negoziante vicino dritto sulla porta della sua bottega lo chiamò con un cenno Denise si fermò per aspettarlo che c'è papà Bourat domandò Badou Bourat era un bel vecchione con una testa da profeta coi capelli e la barba lunga con certi occhi penetranti sotto i sopraccigli irti aveva un negozio di bastoni ombrelli li riparava e ne scolpiva da sei manici cosicché nel quartiere si era acquistata fama di artista Denise dette un'occhiata alle vetrine nelle quali gli ombrelli e i bastoni stavano in file simmetriche poi alzò gli occhi e rimase mezza intontita al guardare la casa una casaccia stretta tra il paradiso delle signore e un gran casamento in stile Luigi XIV venuta su non si poteva dire come in quella strettoia dove i suoi due piani restavano soffocati se non l'avessero così sorretta a destra e a sinistra sarebbe crollata che già le ardesie del tetto tutte sottosopra infradiciate e la facciata a due finestre piena di crepacci mandavano lunghe macchie di umidità sul legno mezzo corroso dal cartello sapete che ha scritto al padrone per comprare la casa disse Burra guardando fisso fisso il negoziante con i suoi occhi di fiamma l'altro diventò anche più livido e si strinse nelle spalle ci fu una pausa i due restarono uno di fronte all'altro guardandosi seri finché ai denti in bocca bisogna aspettarsele tutte caro amico mormorò alla fine allora Burra si infuriò e scosse i suoi capelli e la sua barba ondeggiante se la compri la casa la pagherà quattro volte quel che vale ma vi giuro io che finché ho fiato non ne tocca un mattone la mia scritta dura ancora dodici anni si vedrà si vedrà era una vera dichiarazione di guerra Burra si voltava verso il paradiso delle signore che nessuno di due aveva nominato stringeva i pugni e giurava che non avrebbe ceduto il suo posto neppure se fosse dovuto stare un anno senza vendere un ombrello Baudou zitto scosse il capo e attraversò la strada per tornarsene a casa con le gambe che gli si pigavano e ripetendo oh mio dio oh mio dio Denise che aveva sentito tutto tenne dietro allo zio Madame Baudou tornava anche lei con Pepe e disse che Madame Gras lo avrebbe preso quando volevano ma Jean non si vedeva più e fu un gran pensiero per la sorella quando tornò col viso animato parlando del boulevard con ardore lei lo guardò con tanta tristezza che lo fece arrossire avevano portata la loro valigia dovevano dormire nelle soffitte a proposito e Vincart domandò ad un tratto Madame Baudou il negoziante raccontò il suo tentativo inutile poi aggiunse che alla nipote avevano proposto qualche altra cosa sese il braccio verso il paradiso delle signore e con un gesto di disprezzo disse rabbiosamente là dentro tutta la famiglia ne fu punta sul vivo la sera la prima tavolata era alle 5 Denise e i ragazzi ripresero i posti della mattina con Baudou Genevieve e Colomban una fiammella di gas illuminava e scaldava il salottino dove s'addensava l'odore delle vivande Madame Baudou che non poteva contenersi venne via dalla bottega e si mise a sedere dietro alla nipote e allora la tempesta repressa fin dalla mattina scoppiò e tutti nel dare addosso al mostro si sfogarono questo è un affare tuo ci devi pensare tu la padrona sei tu badava dire Baudou noi non vogliamo influenzarti ma se tu sapessi quella casa lì a frasi tronche raccontò la storia di quell'Octave Mure tutte le fortune aveva avute il giovanotto capitò a Parigi dal mezzogiorno con l'amabile audacia dell'avventuriero e appena giunto pasticci di donne un servirsi delle donne per andare avanti lo scandalo di un delitto flagrante del quale si parlava ancora nel quartiere poi l'improvvisa e inspiegabile conquista di Madame Edouin che gli aveva portato in dote il paradiso delle signore povera Caroline interruppe la signora eravamo un po' parenti ah se non fosse morta lei le cose non sarebbero andate così lei non ci lascerebbe assassinare è l'ammazzata lui già quando faceva i lavori di muratura una mattina andò a vederli e cadde in una buca tre giorni dopo morì e non era stata mai malata era tanto sana tanto bella c'è del sangue cari miei c'è del sangue sotto le pietre di quella casa attraverso i muri ella additava il grande magazzino con la sua mano pallida e tremante Denise che stava a sentire come si sta a sentire una novella provò un leggero brivido chissà che la paura che dalla mattina l'aveva turbata l'attrattiva che il paradiso esercitava su di lei non nascessero dal sangue di quella donna che le pareva ora di vedere rosseggiare nelle fondamenta a vedersi pare che porti fortuna aggiunse Labadou senza nominare Muray ma il negoziante alzava le spalle sdegnando quei discorsi da comari ricominciò il suo racconto e spiegò commercialmente lo stato delle cose il paradiso delle signore era stato fondato nel 1822 dai fratelli Deleuze alla morte del maggiore la figlia di lui Caroline si era maritata con uno dei figli di un fabbricante di tele Charles Edouane in seguito era rimasta vedova e aveva sposato quel tale Muray al quale portava così in dote la metà del magazzino non erano passati tre mesi che lo zio Deleuze era morto anche lui senza lasciare figli così quando Caroline aveva lasciato la pelle tra i calcinacci Muray era rimasto erede di tutto e padrone assoluto del paradiso tutte le fortune toccavano a lui un sognatore uno scombinato pericoloso che butterà all'aria al quartiere se lo lasciano fare seguitò Bedou Caroline che era anche lei un po' romantica rimase affascinata dei disegni stravaganti di quel bravuomo il fatto è che le fece comprare la casa a sinistra e poi quella a destra e ora che è rimasto solo ne ha comprate altre due e così il magazzino è cresciuto è cresciuto tanto che minaccia ad ingoiarci tutti si rivolgeva a Denise ma parlava per sé rimuginando quella storia che lo straziava in casa era lui il bilioso il furioso sempre coi pugni stretti la signora non ci prendeva più nessuna parte standosene immobile su di una sedia Genevieve Colombin con gli occhi bassi raccattavano e mangiavano distrattamente delle briciole di pane faceva tanto caldo in quell'ala della stanza che Pepe si era addormentato appoggiato alla tavola e a Gene gli occhi lì si chiudevano da sé pazienza riprese Baudou preso a un tratto dalle furie gli imbroglioni se ne andranno con le corna rotte già la gente onesta la vince sempre sulla canaglia perché basta che stia ferma a guardare e aspettare il capitombolo Mure non naviga mica in buone acque lo so di sicuro tutto quel che aveva guadagnato lo ha speso nelle sue pazzie ed allargamenti di pubblicità di più per trovare dei capitali ha pensato di fare in modo che la maggior parte dei suoi impiegati mettano da lui a frutto quel poco che hanno ed ora non ha un soldo e se non gli riesce di triplicare la vendita come spera lui vedrete che affare non sono mica cattivo io ma quel giorno vi do la parola d'onore che metto i lumi alle finestre seguitò con quella voce piena d'astio pareva che la rovina del paradiso delle signore dovesse rialzare la decaduta dignità del commercio si era vista una cosa simile un negozio di novità dove si vendeva di tutto ma allora non era un negozio era un bazar e gli impiegati bellini un mucchio di bellimbusti che lavoravano come fossero in una stazione e trattavano le mercanzie e i clienti come fagotti piantando il padrone quando il padrone non piantava loro per una mezza parola gente senza cuore scostumata ignorante e lì per lì presa testimone Colombin lui Colombin educato secondo le buone regole sapeva che un po' per volta si arriva a saperle tutte e bene le arti e furberie del mestiere non si trattava mica di vendere molto si trattava di vendere caro e lui poteva dirlo come era stato trattato come era divenuto uno di casa e come l'avevano curato quando era stato malato e gli avevano lavato sempre la roba gli avevano fatto i rammendi e poi e poi sorvegliato paternamente insomma gli avevano voluto bene come un figlio ecco fatto sicuro sicuro ripeteva Colombin ad ogni urlo del padrone ma tu sei l'ultimo caro mio concluse Badou commosso e dopo te non ce ne saranno altri io non ho altra speranza che te perché se chiamano commercio un fare agli spintoni in quel modo allora io non ci capisco più niente è meglio uscirne una volta per sempre Genevieve con la testa china su una spalla come se i suoi folti capelli neri gravassero troppo sulla sua pallida fronte guardava il commesso sorridendo e nel suo sguardo si scorgeva un sospetto un desiderio di scorgere se Colombin preso da rimorso arrossisse o no a sentire quelle lodi ma da uomo che le commedie del vecchio negozio sapeva per filo e per segno lui stava lì come se nulla fosse con la sua aria bonacciona e con le labbra chiuse in modo da dare alla fisionomia un aspetto di singolare malizia Badou intanto seguitava vociare sempre più forte e accusava quella rivendita di merce d'occasione lì di fronte quei selvaggi che si sgozzavano tra loro nella cosiddetta lotta per la vita da arrivare perfino a distruggere la famiglia citava i loro vicini in campagna Elon padre madre e figli tutti e tre impiegati in quella baracca gente che non aveva quasi più l'idea della famiglia sempre fuori e non mangiavano in casa altro che la domenica una vita insomma da tavola rotonda e da albergo sicuro il suo salotto da pranzo non era grande la luce e l'aria non abbondavano ma almeno la sua vita era attaccata lì dove aveva vissuto con l'amore dei suoi mentre parlava faceva con gli occhi il giro della stanza e gli venivano i sudori al pensiero che non osava confessare che quei selvaggi un giorno se fossero riusciti a buttar giù il suo negozio lo avrebbero potuto cacciar via da quella casina dove stava tanto bene caldo caldo fra la moglie e la figlia per quanto nel profetare l'ultima rovina si mostrasse pieno di fede in fondo era pieno di terrore perché si accorgeva che purtroppo il quartiere poco alla volta era invaso e divorato tutto questo si ha detto per la verità mica per dissuaderti riprese poi cercando d'essere calmo se ti pare d'andarci sarò il primo a dire baci lo so lo so zio mormorò Denise stordita da quei discorsi e più che mai desiderose di entrare al paradiso delle signore lo zio con i gomiti sulla tavola non le levava gli occhi di dosso ma guardiamo tu te ne intendi dimmi un po' se ti pare che stia bene che un semplice magazzino di novità si metta a vendere di tutto tempo fa quando il commercio si faceva onestamente le novità non erano che i tessuti nient'altro che i tessuti oggi non fanno che invadere il campo dei vicini e mangiarsi tutto di questo si lamenta il quartiere perché le piccole botteghe incominciano a subirne le conseguenze quel mure le manda in rovina vedi Bedoré e sorella il magnifico in rugaillon ha perduto già la metà dei clienti dalla Tatin che ha un negozio di biancheria nella galleria Choiseul sono costretti a ribassare i prezzi a fare a chi dà la roba a meno e le conseguenze di questo flagello di questa peste si fanno sentire fino in Rue Neuve de Petit Champ dove ho sentito dire che i vampuì pellicciai sono lì per fare il capitombolo i merciai che si mettono a vendere le pellicce siamo giusti si va nel grottesco e anche questo è un'altra idea di mure e i guanti disse la signora non è una cosa mostruosa ha avuto il coraggio di mettere un reparto per i guanti ieri mentre passavo per Rue Neuve San Agustin Kinet era sulla porta con un viso tanto triste che non stetti nemmeno a domandare se gli affari andavano bene povero Kinet fra poco non gli rimarrà altro che lavare i guanti vecchi e gli ombrelli riprese Badou gli ombrelli poi sono il colmo Burat è convinto che non lo fanno altro che per rovinare lui infatti domando io che c'entrano gli ombrelli con le stoffe ma Burat è un uomo che non si lascerà sgozzare avremo di che ridere uno di questi giorni si mise a parlare da altri negozianti passando in rassegna tutto il quartiere ma gli sfuggivano delle confessioni se Vensard voleva vendere significava che era finita bisognava fare le valigie e andarsene perché Vensard faceva come i topi che scappano quando la casa sta per crollare poi dopo un momento si sbugiardava e almanaccava un'alleanza tra i piccoli negozianti per combattere il colosso era un po' che si tratteneva dal parlare di sé con le mani convulse con la bocca stirata da un movimento di nervi finalmente si decise io per quanto mi riguarda fino ad ora non posso lamentarmi troppo sicuro dei torti me ne ha fatti quel brigante ma per adesso non ha che le stoffe da signora le stoffe leggere per i vestiti e le stoffe più pesanti da mantello vengono sempre da me per comprare i panni da uomo i velluti da caccia le livree le flanelle le felpe non ce l'hanno mica là un assortimento come il mio ma se vuole stuzzicarmi mi vuole far arrabbiare con quel reparto di panni che ha piantato proprio di fronte al mio uscio vi ficca sempre i più belli oggetti di moda e li sistema fra una montagna di stoffe una vera esposizione da ciarlatano fatta apposta per accalappiare le baldracche io parola d'onore mi vergognerei di servirmi di quelle astuzie il vecchio e il boeuf è conosciuto da quasi cent'anni e non ha bisogno di mettere sull'uscio reti per pappei finché sarò vivo la bottega resterà come l'ho avuta io quattro campioni di stoffe in vetrina giusto per l'esposizione una destra una sinistra e niente di più erano tutti commossi Geneviève s'arrischiò dopo un po' a rompere il silenzio i nostri clienti ci vogliono bene papà bisogna sperare madame desforges e madame de boeuf sono venute anche oggi aspetto madame marty per certe flanelle io dichiarò Colombin ho avuta ieri un'ordinazione da madame Bordelet è vero però che mi ha parlato di un cashmere inglese che di fronte è messo in vendita 50 centesimi meno pare che sia lo stesso che abbiamo noi e dire mormorò madame de boeuf con la sua voce stanca che noi quella casa là l'abbiamo vista grande come un fazzoletto già Denis mia quando i Deleuze la fondarono non aveva che una vetrina su Runeuf Sant'Agostin un vero armadio dove due pezze di indiana si litigavano il posto con tre pezze di bordato la bottega era tanto stretta che non ci si poteva rigirare allora il vecchio Elbeuf che aveva già 60 anni di vita era proprio come ora scuoteva la testa e le sue parole lente raccontavano il dramma della sua vita nata nel vecchio Elbeuf ella ne amava perfino le pietre umide non viveva che di esso e per esso e orgogliosa un tempo di quella casa che era la più solida ed accreditata del quartiere aveva avuto un tormento continuo a vedersi crescere di fronte a poco a poco la casa rivale da principio non curata e disprezzata poi di pari importanza poi straripante e minacciosa era per lei una piaga sempre aperta quella povera donna languiva ogni giorno di più per la rovina del vecchio Elbeuf vivendo ancora per forza d'inerzia come una macchina caricata ma ben consapevole che l'agonia della bottega era la sua e che sarebbe morta il giorno in cui la bottega avrebbe chiuso i battenti per sempre rimasero tutti zitti Badou tamburellava con le dita sull'incerata della tavola si sentiva stanco e quasi rammaricato ad essersi sfogato un'altra volta e in quell'accasciamento tutta la famiglia seguitava senza guardarsi l'un l'altro a riandare col pensiero ai dispiaceri sofferti non avevano mai avuto un po' di buon vento i figli erano stati tirati su ed educati la fortuna veniva quando la concorrenza così a un tratto li rovinava e c'era anche la casa di Rambouillet la villa dove da dieci anni Badou pensava di ritirarsi un buon affare diceva lui ma in realtà una bicocca che non finiva mai di restaurare e che aveva dovuto dare in affitto senza che gli inquilini gli pagassero un soldo i suoi guadagni da un pezzo andavano a finir là non si era levato che questo capriccio nella sua onestà scrupolosa nella sua probità di negoziante ostinato nelle vecchie usanze via disse a un tratto bisogna lasciare il posto agli altri abbiamo ciarlato abbastanza parve che si svegliassero la fiammella del gas si bilava nell'aria morte calda del salottino tutti si alzarono di soprassalto rompendo quel triste silenzio Pepe dormiva così profondamente che lo stessero sopra alcune pezze di felpa Jeanne che sbadigliava era già sulla porta e per concludere tu devi fare quel che ti pare ripete Badou alla nipote noi ti diciamo come stanno le cose ma poi ognuno pensa con la sua testa la sollecitava con l'occhiate e aspettava o un sì o un no Denise che quelle storie non avevano per nulla distolta dal suo proposito di entrare al paradiso nell'aspetto era rimasta tranquilla e dolce cocciuta in fondo come una vera normanna si contentò di rispondere si vedrà zio e disse che voleva andare a letto presto coi bambini perché tutti e tre si sentivano stanchi morti ma erano suonate proprio allora le sei e volle restare un altro po' nella bottega si era fatto buio la strada la ritrovò nera nera bagnata da una pioggia fine e fitta cominciata a cadere fin dal tramonto fu una sorpresa in pochi minuti la via si era fatta tutta pozzanghere nel mezzo scorrevano rigagnoli di acqua giallastra e i marciapiedi erano tutti una poltiglia sotto la pioggia non si vedeva più se non il passare confuso degli ombrelli che si urtavano come grandi ali cupe nelle tenebre Denise si tirò indietro infreddolita col cuore stretto anche di più dalla bottega mezza buia lugubre a quell'ora un soffio umido l'alito del vecchio quartiere saliva su dalla strada pareva che lo sgocciolio degli ombrelli si infiltrasse perfino nel negozio e che il selciato con la sua melma e le pozzanghere entrasse a finire di imputridire il pianterreno bianco di San Nitro intravedeva tutta l'antica Parigi così bagnata dall'acqua e si sentiva rabbrividire meravigliandosi dolorosamente di trovare la grande città tanto gelida e sudicia ma dall'altra parte della strada il paradiso delle signore accendeva le lunghe file delle sue fiammelle di gas e Denise attirata di nuovo e quasi riscaldata da quella fonte di luce ardente si avvicinò la macchina andava sempre rumorosa sbuffando il vapore con un ultimo mugito mentre gli addetti alla vendita ripiegavano le stoffe e i cassieri contavano gli incassi attraverso i vetri annebbiati si vedeva come un pullulare vago di luce si vedeva confusamente quasi l'interno di un opificio dietro la pioggia che seguitava a cadere quella apparizione lontana incerta prendeva l'aspetto gigantico